Salve a tutti, buon tutto, voglio parlare di Vove Fulle Allora, per essere in mondo su Vove Fulle dobbiamo entrarci su Vove Fulle perché Vove Fulle è un nuovo social non possiamo... Allora, quando Facebook esisteva per la prima volta avete stentato un po' a entrarci in mondo poi ci siete entrati perché non fate la stessa cosa con Vove Fulle? Facciamo crescere Vove Fulle è un nuovo social, tutto in italiano meglio di Facebook, di Instagram, di Twitter, di TikTok di Telegram poi, volendo, potete mettere i video di TikTok su Vove Fulle ve li fanno mettere oppure li potete fare pure lì, i video vabbè, non ci sono le live non si possono fare le live però le storie si possono fare ecco quindi e vi pagano per postare contenuti sia per le storie sia per i commenti sia per le visualizzazioni sia per i like sia per i super like per tutto per tutto vi pagano per invitare gente a registrarsi una volta che si registra la gente avete l'account premium per diversi giorni quindi perché non provate? è gratuito si entra per invito ecco perché se non cliccate sul link invito non fate guadagnare le persone ecco perché se voi venite dentro al mio gruppo di Vove Fulle su Facebook siete sempre su Facebook anche se mi fate le visualizzazioni like quelli sono di Facebook quei like e le visualizzazioni non riguardano Vove Fulle non riguardano il social Vove Fulle ecco riguardano il social Facebook che a me non mi fa guadagnare Facebook mentre Vove Fulle si piano 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 con pazienza e costanza si guadagna ecco quindi è da provarlo Vove Fulle dovete vedere tutte le spiegazioni li trovate sul mio gruppo di Facebook dedicato a Vove Fulle ecco quindi questo video lo troverete dappertutto dove sono ecco